Eccoci qua nuovamente insieme dopo il Tg per la seconda parte di Calcio.basket dedicata a campionati di serie D, eccellenza e promozione Ancora ben trovata la nostra Alessia Ben trovata Roby Che abbiamo in studio? Gli ospiti della nostra seconda parte sono l'opinionista Tidio Fabri Buonasera di nuovo Che è rimasto con noi? Abbiamo il difensore del Pietracuta Federico Fabri Buonasera Buonasera Federico Il centrocampista del Pietracuta Thomas Sapori Buonasera Buonasera Thomas E il nostro caro opinionista Giuseppe Delbianco Grazie, buonasera Buonasera Giuseppe Poi ci collegheremo anche con la presidente del corticello Roberta Bonfigori Ma chiaramente faremo un collegamento telefonico in questo caso Quindi ci collegheremo direttamente nel momento in cui poi sentiremo da lei un commento su questa partita Ricchissima di gol questo 3 a 3 con lo United Riccione Partiamo proprio dal Pietracuta 0-0 nel derby sul campo della Vissa Nova Feltria Un derby molto sentito Allora raccontatemi innanzitutto che partita è stata? Allora come al solito è stata una partita dove l'atmosfera era molto carica Era tutto pieno È stata una partita molto equilibrata come ce l'aspettavamo Infatti il primo tempo è stato con poche occasioni sia da una parte che dall'altra Ritmi non troppo elevati Diciamo che poi nel secondo tempo siamo usciti un po' più fuori noi Abbiamo cercato di attaccare e di chiudere un po' nella loro metà campo Ma non abbiamo trovato il gol C'è mancato o l'ultimo passaggio o la conclusione finale Hanno salvato un paio di gol sulla linea E quindi c'è mancato il gol Però diciamo che quando è la fine il pareggio ci può stare Ci accontentiamo dai Thomas è giusto alla fine lo 0-0? Sì per me è giusto Comunque un derby è sempre una partita molto difficile Eravamo in trasferta Loro avevano i loro tifosi lì Io penso che ci portiamo a casa a un buon punto E proseguiamo la nostra striscia positiva Abbiamo anche una foto Che ci inquadra e ci fa capire un po' l'ambiente Ecco tribuna piena Insomma devo dire grande atmosfera Tilio Sì noi eravamo presenti lì Un gran pubblico, un bel tifo L'importante è che sono stati molto molto corretti Quello però sempre quando c'erano questi derby Due derby, due squadre, due tifuserie molto calde Ma molto molto corrette Quello è importante Avevano schierato anche delle forze dell'ordine Oltretutto Molpe che erano più carabinieri di noi I giornalisti Ma per i giocatori in campo o per quelli in tribuna? No per le tribune Hanno fatto i settori È stata una bella partita Ha giocato bene Hanno avuto qualche occasione Qualche salvataggio sulla linea E quindi anche io secondo me lo 0-0 ci può stare Anche per Pietracuta è un bel 0-0 Perché si porta secondo in classifica E quindi è importante È quello che sia andato tutto bene È stata una bella partita piacevole? Sì molto bella Il primo tempo come diceva Federico No è stato un po' più equilibrato Il secondo tempo invece Tra l'altro c'era anche l'arbitro che veniva da lontano Anche ieri L'altra volta l'hanno avuto dalla Sardegna Stavolta l'hanno avuto dai Junso E quindi termo arbitrale Però non ci sono stati episodi No non ha scavolato molto Altro a Riccione forse qualcosa di più Dopo parleremo Poi ne parleremo Thomas è stata una partita Diciamo comunque sentita Ma corretta anche in campo? Sì 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 Al contrario della partita in Coppa Secondo me è stata una partita molto più corretta Ed è bello così Poi ci sono sempre contrasti duri Però fuori dal campo Rimaniamo sempre tutti amici Ecco vi aspetta Federico Un campionato Insomma dove dovete confermare Quanto di buono ho fatto vedere l'anno scorso O avete fatto vedere troppo di buono l'anno scorso? Speriamo di no Speriamo di riconfermarci Il nostro obiettivo rimane la salvezza Però sarebbe bello Rifare quello che abbiamo fatto l'anno scorso Intanto diciamo che siete secondi in classifica Con 11 punti Sì è appena iniziato Non ci montiamo la testa Però siamo lì Cerchiamo di rimanerci Però fa sempre piacere vedere Anche se sono poche giornate Se ne sono andate 5 Immagino faccia sempre piacere Per quando si gioca in una squadra Vedere che è nei quartieri alti della classifica In questo caso insomma secondo posto Con solo il Castenaso che ha fatto meglio di voi Che è a quota 13 Voi 11 3 vittorie 2 pareggi 0 sconfitte 10 gol fatti E solo 3 gol subiti Certo certo Da morale Anche perché non ce l'aspettavamo Però noi ogni partita andiamo al massimo Se siamo lì è perché ce lo meritiamo alla fine Poi hanno un gran mister Perché Franiani lo conosciamo Un gran mister Per la categoria Iniziamo dal campionato invece di promozione Quindi andiamo in promozione Poi torneremo nel campionato di eccellenza Per parlare nuovamente con i nostri ospiti Però che giornata è stata Poi vedremo anche qualche immagine Perché abbiamo le immagini di Civitella Young Con la vittoria del Civitella E poi vedremo anche le immagini del derby di sabato Che appunto a cui faceva riferimento prima Attilio Tra Riccione e Misano Con la vittoria di misura del Riccione Con il gol del solito bomber Cremonini al 27esimo della ripresa Partiamo proprio con i risultati Sì allora Roberto In questo campionato Il Frattaterme che è in testa alla classifica Con 13 punti E si conferma una squadra di tutto rispetto Perché l'anno scorso Non è riuscita nel salto di categoria Però quest'anno si fa rispettare Ed ha sorpassato il Misano Che ha perso nell'anticipo di sabato scorso Contro il Riccione 1926 Il Fratta è una bella squadra Io l'ho vista È una squadra forte secondo me In tutti i reparti E vedrai che fino alla fine del campionato Si giocherà la vittoria dello stesso Per quanto riguarda invece le altre partite Dobbiamo segnalare i primi tre punti del Bella Riva Che non aveva ancora timbrato il cartellino In questo campionato A spese del Frugia Sport Che è il Bella Riva Quindi ottiene i primi vittori I primi tre punti in questo campionato E lascia a zero punti L'Edelweiss Forlì L'Edelweiss Forlì Che gioca sul campo Del Cavaronco Proprio all'antistadio di Forlì E ha perso contro la Savignanese Per due reti a zero Da segnalare un episodio curioso Perché l'arbitro Fra l'altro di Forlì Quindi ha fatto pochissima strada Per andare ad arbitrare lì Ha espulso ben tre persone Nella panchina della Savignanese Quindi tutte contemporaneamente Diciamo visto le immagini Una cosa abbastanza strana Diciamo spellere tre persone Non giocatori Ma il tecnico e collaboratori Eccetera Nell'unica occasione Per quanto riguarda invece Le altre partite Dobbiamo segnalare La bella vittoria della Stella Rimini Sul campo molto difficile Del Bacchia a Cesena E soprattutto Segnaliamo la vittoria Del Cervia United A spese del San Pietro in vincoli Fuori casa E il Cervia Che si trova a 12 punti Quindi è un punto Dalla testa della classifica Squadra costruita Per vincere il campionato Perché ricordiamolo ancora una volta C'è stata la fusione Fra il Cervia E il Adesso mi sfugge il nome Del Duca Del Duca Ecco non mi veniva Il Del Duca Grama E quindi con Momo Montanari Ovviamente Il allenatore Vincente Che nel Del Duca Fra l'altro ha ottenuto Due promozioni consecutive Il Cervia cercherà Di salire Di categoria Anche in questo campionato Mercoledì prossimo Si giocherà La quarta giornata Quindi il recupero Così come In eccellenza Ci sono delle partite Molto interessanti Fra cui Bacchia Cesenatico Misano E la partita Che è Riccione 1926 Cervia United Queste sono le due partite Big unitamente A Savignanese Stella Rimini Che dire Il Riccione Praticamente ha ottenuto Tre punti Molto importanti Con Cremonini A spese proprio Dell'ex capolista E quindi Si avvicina Alla vetta Anche se è distante Cinque punti Però Secondo il mio punto di vista Sarà un campionato Molto combattuto Non c'è una squadra Favorita sulle altre E quindi ritengo Che alla fine Ci sarà Un bel equilibrio Fra quelle cinque Se squadre Che lotteranno Per la vittoria Del campionato Eh si Vediamo Tra l'altro Che c'è davvero Già dalle prime giornate Un grande equilibrio Già la classifica Ce lo racconta Ci soffermiamo Sul derby Tra Riccione Misano Attilio Perché tu Insieme a Filippo Agostini Eravate lì A seguirlo Ce l'avete anche raccontato Per quanto riguarda Diciamo le azioni principali E il tabellino Che abbiamo riportato Sul nostro sito News Limini E abbiamo anche le immagini Tra l'altro Che ci sono state fornite Dalla società Quindi le possiamo vedere Così poi Vedremo anche il gol Partita di Cremoni A parte il risultato È stata una bella partita Il Misano Non meritava di perdere Perché ha avuto Diverse occasioni Ma ha trovato davanti Un portiere Barbanti Che sabato Non si passava Infatti come diceva Giuseppe Ero vicino Il mister Atletico Cervia Del Cervi United Montanari Che era vicino a me Ha detto Questa è una squadra Ben quadrata Anche Riccione Il Misano È molto forte È una squadra Molto giovane C'ha gli esperti davanti Come Traini Gravina Che non perdonano Ma purtroppo Si sono trovati I barbanti Che non si passava L'unica palla Che gli è arrivata Il bomber Che è andato via In velocità E non si teneva E ha fatto pallonetto Gol Col portiere in uscita Quindi Il risultato Poteva essere anche di parità Però Chi fa gol Vince la partita Qui c'è da segnalare Che Molti me l'han chiesto Cosa è successo Al novantesimo Quando Riccione Doveva fare la sostituzione Con Olivieri Allora C'erano due giocatori Del Riccione A terra Borghini E un altro Con i crampi Ha chiamato il guardaline Il guardaline Non ha chiamato l'arbitro Ha fatto continuare il gioco L'arbitro guardava Perché avevano la lavagnetta Già in mano A metà campo Poco dopo Un altro giocatore A terra Ancora il guardaline Dopo lì Si sono beccati Si vede che Il dirigente Gli ha detto qualcosa Ha espulso il dirigente E alla fine Anche il portiere Cresentini Del Riccione 1926 Lì non siamo riusciti A capire Nessuno In tribuna Cosa veramente Abbiamo fatto Perché lì bastava Segnalare all'arbitro Il gioco era fermo E facevano la sostituzione Dopo Visto che alla fine Parlavano tutti tranquilli Verso gli spogliatoi Speriamo che non succeda Niente di grave Dice in termini Di squalifiche Per le squalifiche Esatto Adesso si vedremo Noi non sappiamo bene Che cosa siamo detti Però il dirigente È un giocatore Che fa la differenza Cremonini Quando parte Non si tiene È stato servito poco Ma ha giocato Anche in Serie D Nella San Maurese Quindi non è L'ultimo arrivato È giovane Corre Gli ha dato Una bella palla Anche Guidotti Dobbiamo dirlo Che gli ha fatto Un bel passaggio È venuto il gol E poi non sono più Riusciti il Misano A rimontarlo È il primo gol Che subisse Tra l'altro il Misano In queste partite E quindi Però Dicendo vero Se non c'era Un barbante in porta La partita Si faceva dura Anche per il Chissà Chissà come sarebbe Andata a finire Allora Vediamo anche le immagini Di Civitella Young Con la prima sconfitta Dei giallo-blu In campionato Qualcuno si è fatto Questo viaggio Perché Alessio ricordiamo Che segue Insomma Le vicende Dello Young Sant'Arcangelo Vediamo le immagini Poi ricordiamo Che in super gol Potrete vedere Il servizio Del nostro Stefano Ravaglia Però Te che l'hai vissuta Lì da Eri a bordo campo Sempre a bordo campo Sempre a bordo campo Come l'hai vista? Che partite hai visto? È stata una partita Molto combattuta In realtà Anche Abbastanza sentita Aggressiva Insomma Entrambe le fazioni Volevano prevalere Noi Secondo me Eravamo un po' Un po' Giù di tono Noi Sant'Arcangelo Ma Sicuramente Questa occasione È un'occasione Per crescere Non è Da parte mia Dico Una caduta Fatale Perché Ci sta Ancora non avevamo Perso una partita Eravamo in un campo Abbastanza ostile La tifoseria Era praticamente Tutta incentrata Chiaramente Sul Civitella E dopo il gol Secondo me Dopo due minuti Ci ha un attimo Destabilizzato E dopo da lì Riprendersi È stata un attimo Fatica Avevamo dei giocatori Importanti Che erano un attimo Fuori Dagli Dagli undici Iniziali Quindi dopo Ci siamo dovuti Un attimo Riassestare Ma è sicuramente Un punto Secondo me Di partenza Non di arrivo Sicuramente Bene Insomma Una caduta Che potrà Non ha detto Non ha detto Che alla fine Poteva anche pareggiarla Perché Cosa Ha variato il rigore Quindi Poteva fare Uno-uno Sì Cecconi Hai voluto graziare Cecconi Diciamo che io sono Un po' di parte Quindi C'è stato Anche dieci Moniti Quindi Non è stata Una partita Ma è stata una partita Postica Sentita È stata sentita Così cattiva È stata sì Quindi Insomma Abbastanza Tosta In un ambiente Bellissimo Perché Eravate proprio in mezzo Sì Vista montagne Sì sì Campo Davvero bella Però Insomma Non è stata una trasferta Che lo Yang ricorderà Con troppo piacere Esattamente Chiaramente Insomma C'è Anche una categoria Diversa Rispetto all'anno scorso Dove lo Yang Insieme a Riccione Insomma Avevano dominato Un po' Questo Questo campionato Poi lo Yang È stato promosso subito Riccione passando Stravincendo i playoff E quindi Erano due squadre Nettamente più forti Di tutte Insomma Quindi Chiaramente ci sta Che con il passaggio Di categoria Ci possa essere anche Qualche battuta Dal resto In questo campionato Di promozione Difficile e equilibrato Come diceva Il nostro Giuseppe A questo punto A questo punto direi che Possiamo collegarci Con la presidente Del corticello Roberta Bonfiglioli Per aprire la finestra Sulla serie D Su questo 3 a 3 Con Lo United Riccione Ancora mi dicono Però dalla regia Che non C'è la presidente In collegamento Con noi E allora Facciamo così Parliamo prima Di eccellenza Torniamo quindi Giuseppe All'eccellenza Poi appena La presidente Risponde Ci colleghiamo con lei E poi continuiamo Sì Il campionato di eccellenza Che ha visto Le due pretendenti La vittoria finale Perdere Ieri Vale a dire Mezzolare e Gambetto Le due squadre costruite Per vincere questo campionato E sono cadute Anche ieri Cosa stia succedendo In queste due squadre Con i giocatori Che hanno Perché hanno Una rosa di giocatori Molto importante Questo È difficile dirlo Però sta di fatto Che il campionato È sicuramente lungo Quindi avranno Tempo per Riprenderci E fra le altre cose Mercoledì prossimo Si giocherà La quarta giornata In questo campionato Ci sarà Uno scontro al vertice Fra Castenaso E Mezzolara Il derby Bolognese Che vedrà Queste due formazioni Affrontarsi Castenaso Che praticamente È in testa Alla classifica Con 13 punti Seguito dal Pietracuta Da questa Terribile matricola Solarolo Con 10 punti Unettamente All'altra matricola San Pierana Che è salita Di categoria Dalla promozione Girone di Castenaso Che È una squadra Veramente Forte Secondo il mio punto Di vista È che Ha segnato Tre gol Contro il Cavaronco Cavaronco Che subisce La seconda Sconfitta Consecutiva Era in testa La classifica Fino a due Domeniche fa Poi ha perso In casa Contro il Tropical Coriano Ieri Ha preso Tre gol In casa Del Castenaso Il Gambettola Che ieri Ha perso In casa Dell'Osteria Grande Per una Rete a zero Ma soprattutto Preoccupa L'espulsione Di due Giocatori Due Difensori Vale dire De Queiroz E Marconi Che sono stati Espulsi Quindi Denota Un certo Nervosismo Questo non lo so Sarà Bernacci Ovviamente Che dovrà Fare Quadrato Per cercare Di amalgamare Questa formazione Sappiamo Che Bonandi È stato Lasciato libero E si accaserà Al Fano Molto probabilmente Per l'ingresso Di Ricciardo L'ex giocatore Che ha giocato Fra altre cose Nella Cesena Sta di fatto Che il Gambettola È una squadra Importante E quindi Costruita Per vincere Questo campionato È stato dichiarato Appertamente Così come Il Mezzolare Stesso Mezzolare Che comunque Ieri Nell'anticipo Di sabato Ha perso Meritatamente Sul difficile Campio Della Sampirana Per tre reti A due Quindi Il Mezzolare Che ha nove punti Quattro punti Dalla prima E il Gambettola A sette punti Quindi A sei punti Dalla prima Fra le altre cose Dobbiamo registrare Che sabato prossimo Ci saranno Due anticipi In eccellenza Granamica Russi E Gambettola Sampirana E invece Dobbiamo dire Non l'abbiamo detto Prima Che il Pietracuta Non giocherà Mercoledì Ma la partita Contro il Sollarolo È stata rinviata Il 16 di ottobre Perché il Pietracuta Ha dei giocatori Che fanno parte Della nazionale San Marinese Così come Il Tropical Coriano Che Sul campo Del Carlo Brigo Di Morciano Mercoledì Affronterà Il Massa Lombarda E sarà assente Dante Rossi Che è il difensore Centrale Anche lui Convocato Con la nazionale San Marinese E in questo caso Dobbiamo dire Che dopo la vittoria Di sabato scorso Nell'anticipo Contro il Reno Per una rete a zero Grazie al gol Di Pasquini Alla partita Che si è giocata Alle 17 Al Calbi Di Cattolica L'allenatore Del Coriano Scardovi Dovrà Inventarsi La difesa Perché Tiraferri È stato espulso Nell'occasione Del rigore Per il Reno Parato da Pollini Anastasi È dovuto uscire Il difensore centrale Nonché capitano Per infortunio La Caviglia E Rossi È l'altro Difensore centrale Che non ci sarà A causa Della convocazione Con la nazionale sanmarinese Così come Bartoli Che verrà operato La Caviglia Credo Intorno al 20 Di ottobre Quindi non ci sarà Per qualche mese Praticamente La difesa Del Coriano Praticamente È quasi tutta fuori Quindi Scardovi Dovrà inventarsi Mercoledì Una difesa nuova Per quanto riguarda Il resto Dobbiamo dire Di questo campionato Che il Faenza Ha perso Anche ieri E quindi Resta A zero punti In questo campionato Ma dobbiamo parlare Anche della crisi Del Russi Del mio amico Oscar Farnetti Grande lanatore Che è stato Una vita A Savignano E una squadra Dove lui Ha voluto Determinati giocatori Per cercare Di disputare Un campionato Diversi Se invece Si trova ancora A due punti Quale sia Il motivo Non lo so Fra l'altro Ieri È stato espulso Anche Salomone L'attaccante Dalla panchina Per proteste Sta di fatto Che il russi Deve salire La china Perché si trova In piena zona Retrogessione È vero Che siamo ancora Alle prime partite Tutto può succedere Tutto ancora In fase di evoluzione Però sicuramente Credo anche Che Oscar Farnetti Non si aspettasse Un inizio di campionato Così negativo Per i suoi russi Ecco In collegamento con noi La presidente del corticella Roberta Bonfiglioli Le diamo subito Il bentrovata Buonasera presidente Buonasera Buonasera a voi Allora Le faccio raccontare qualcosa Di questo 3 a 3 In casa Con lo United Riccione Partita ricchissima Di gol E di emozioni Corticella Avanti 2 a 0 Grazie alla doppietta di Rizzi In gol al 28esimo Al 41esimo Del primo tempo Nella ripresa Gli ospiti pareggiano Anche in questo caso Con una doppietta di Rossi In gol al quinto E al quarto d'ora Lo United Poi completa addirittura Il ribaltone Quindi si porta avanti Comba Kogu al 32esimo La riprende Zucchini al 52esimo E quindi siamo al minuto 97 Insomma Partita per cuori forti Presidente Assolutamente Sì È stata una partita Siamo partiti molto bene Giocando bene Facendo secondo me Quello che Insomma Che dovremmo fare Nel migliore dei modi E a fine del primo tempo 2 a 0 Metteva già una certa tranquillità Che così non è stata Sono riusciti Completamente Riccione A ribaltare la partita Noi abbiamo Sofferto Parecchio Devo dire Una nota di merito È che i ragazzi Non hanno Assolutamente Perso la testa Siamo anche rimasti In dieci Con l'istruzione Di Rissi E quindi Di conseguenza Per ora Hanno continuato A lottare Fino alla fine Raggiungendo Un pareggio A mio avviso Nel caso Però Insomma Sudato E con fatica Questo è quanto Ecco Che cosa è successo Quando praticamente Avanti 2 a 0 Nella ripresa invece Avete incassato Quello 1-2 Di Rossi Eh Cosa è successo È successo Che abbiamo preso Gole Cioè I ragazzi Hanno avuto Un attimo Di Un piccolo Debacle Anche per loro Sono andati Un attimo In crisi È venuto Un gol Un bel gol Insomma Di conseguenza Abbiamo Un attimino Siamo Incappati Nel 2 a 1 È anche vero Che noi Abbiamo una squadra Molto giovane Una squadra nuova Abbiamo cambiato Tantissimo E Stiamo ancora Secondo me Avendo risultati Abbastanza Altalenanti Perché Insomma Mister nuovo È un gruppo Di ragazzi Praticamente Totalmente Completamente Cambiati Dalle scorse Stagioni È certo È stato un po' Pagando Dazio Quattro punti In classifica Si aspettava Però immagino Un avvio Anche difficoltoso Proprio Per le motivazioni Che ci ha raccontato Adesso Ovvero Allenatore nuovo Squadra giovane Nuova Certo Certo Noi ci aspettavamo Sicuramente Tutto questo Il direttore generale Ha lavorato Alla caramente Sapevamo benissimo Che il cambio Portava A sacrifici E sicuramente A non avere La stabilità Che avevamo avuto Nelle scorse Due stagioni Però Insomma Siamo coscienti Di tutto Sono ragazzi Giovani Ragazzi bravi Ragazzi seri Il mister La categoria La conosce E di conseguenza Abbiamo solo A mio avviso Dare tempo A tutto il gruppo Di amalgamarsi E di Ripartire Mi sembra un parolone Insomma Abbiamo avuto Ieri Un attimo Così Però La squadra Secondo me Ha anche dimostrato Di esserci E di conseguenza È vero Che ci aspetta Un brutto turno Davanti Però è anche vero Che Cerchiamo E cercheremo Di fare di tutto Per provare A mantenere La categoria Sapendo Che con un gruppo Molto giro Non si fa fatica E sì Prossima sul campo Della capolista Tavo calcio Alto Pascio Quindi sicuramente Insomma Che fino a questo momento Ha lasciato le briciole Gli avversari Cinque partite Cinque vittorie Dodici gol fatti Cinque gol subiti Quindi insomma Qualche gol L'ha preso Però ne segna Davvero tanti E soprattutto Non è riuscito Nessuno A fermare La sua marcia Vincente Perché Come dicevamo Punteggio pieno Dopo le prime Cinque giornate Credo che ieri Abba dimostrato Tanto Perché insomma Aver vinto Va bene che Ha vinto in casa Ma ha vinto Contro A mio avviso Una delle squadre Candidate A poter vincere Il campionato E' anche vero Che secondo me Quest'anno Per l'esperienza Mia di presidente In questi tre anni Di serie D E' un campionato A mio avviso Molto Molto forte Un campionato Dove Ci sono Parecchi Non c'è la squadra Che secondo me Può ammazzare il campionato Ci sono parecchie squadre Che hanno fatto Veramente Un mercato Importante Però ieri Diciamo che Alto Pascio Aver vinto In casa Col Forlì Secondo me È stato Credo Non ho visto Non so Ma credo Veramente Una bellissima vittoria Ebbene Dubbiamente Anche perché Poi comunque È un cammino Importante In un campionato Come dicevamo Anche con Nomi Importanti Proprio A partire Dall'avversario Insomma In questo big match Di giornate Per quanto riguarda La capoclassifica Ovvero il Forlì superato Ricordiamo 2-1 Tra poco Andremo a vedere Poi tutta La carlata Dei gol Obiettivo Per il corticella Mantenere la categoria Mi sembra Di aver capito Anche delle sue parole Assolutamente Sì L'obiettivo È mantenere la categoria Continuare a lavorare Con il nostro Gruppo di giovani Credere in tutto Il nostro settore Giovanile Portare avanti Però l'obiettivo È quello Di poter Rimanere in categoria Possibilmente Con qualche giornata Di anticipo Per avere Una salvezza Possibile Tranquilla Se mi dovesse fare un nome Invece per La promozione Chi finisce Il primo posto? Io sono veramente Molto Molto Sincera Mi sarei giocata All'inizio Del campionato Ravenna Su tutti Per tantissime Motivazioni Perché Secondo me La voglia Di riscatto Batteva Tutto Il resto E qualsiasi cosa In questo momento Credo che Ravenna Stia attraversando Un brutto periodo E diventa Secondo me Non lo so Bisogna vedere Che forza Di reazione Hanno Diversamente Foglia E Cittadella Sono due grandi Scuole Allora Noi ringraziamo La presidente Del corticello Roberta Bonfigone Per questo collegamento Grazie per essere stata Con noi E buon proseguimento Di serata Grazie mille Grazie a voi Buona serata Allora Tra poco Torneremo E vedremo Torneremo Per la serie D E vedremo Tutti i gol Però prima torniamo Nel campionato Di eccellenza Perché In effetti Insomma Dicevamo Diceva soprattutto Il nostro Giuseppe Che ci sono Le big Comunque le società Insomma Che hanno costruito La squadra Per vincere questo campionato Che stanno accusando Qualche battuta Dal resto Forse in attesa Anche Sì Diciamo che Le squadre Che dovevano stare Là davanti Stanno facendo Un po' più di fatica Ma Ancora è presto E fanno In tempo Venire fuori Penso che Le prime partite Abbiano un po' Una storia a sé Poi i veri valori Verranno fuori Più avanti Quali sono Inizio da Thomas Le vostre Le vostre Favorite Quali sono Secondo voi Le squadre Più attrezzate Così sulla carta O In base anche Alle prime giornate Che avete visto Se vi ha impressionato Qualcuno in maniera particolare Guardando il mercato Io direi Il gambetto Assolutamente Il mezzolare Che naturalmente Appena retrocesso Però devo dire Che Mi ha stupito molto Il russi Anche se È partito È partito Un po' male Penso che A livello di gioco Abbia tanto da dare Il mister è bravo E hanno giocatori Molto Molto tecnici Quindi penso che Possano fare bene Per il resto Penso che Il campionato Sia molto equilibrato Federico Sì come ha detto Lui Il gambettola Che come l'anno scorso È una squadra Sempre costruita Per vincere Poi devo ancora Vedere il mezzolara E sono d'accordo Anche sul russi Che Non capisco Come faccia Ad essere lì In questo momento Però A noi ci ha messo In grande difficoltà Soprattutto nel primo tempo C'hanno sia Delle grandi individualità Che Un grande allenatore Secondo me Verranno fuori Sono Una delle squadre Più forti Siete Praticamente Avete iniziato Un ciclo Di partite Tutte fuori casa Perché avete giocato Sul campo Del Visoma Feltria Mercoledì Avete recuperato Della quarta giornata Sul campo Della rivelazione Sola Rolo Che ha Dieci punti In classifica E poi Domenica Diciamo Era in Diciamo In programma La trasferta Massa Lombarda Che però È stata rinviata Insomma Quindi un calendario Però che vi proponeva Tre partite Consecutive In trasferta In trasferta Sì A noi ci piace molto Giocare in casa Il nostro Immagino Il nostro fortino Però anche Anche in trasferta Dai Bisogna Bisogna Dir la nostra Dai Anche perché Insomma Lo scontro con il Sola Rolo Sarà D'alta quota Perché 11 punti voi Dici loro Quindi la classifica Questo ci dice In questo momento Sì Diciamo che siamo Due grandi sorprese Nel campionato Perché nessuno Solo aspettava Che fossimo lì A questo punto Vedremo Vedremo Che squadra Che squadra sono Noi In ogni caso Ci presenteremo lì E daremo il massimo Quindi Poi Vedrà Vedrà il campo Attiro Ti aspettavi anche Un buon inizio Così della Sampierana Che ha subito Preso le misure La nuova categoria È partita male All'inizio E si è ripreso subito Quindi Ma la Sampierana C'è anche una bella squadra Un bel campo Un bel pubblico Anche loro E quindi Per me La Sampierana Quando sarà la fine La vedremo molto In alta classifica Allora Andiamo a vederci Tutti i gol Facciamoci questa Scorpacciata di gol Mentre Giuseppe ci racconta Qualcosa in più Di questa Serie D Abbiamo già parlato Abbiamo detto qualcosa Con la presidente Del corticello Roberta Bonfiglioli Però insomma Stiamo iniziando A vedere le immagini Che vanno un po' In ordine Più o meno Di classifica Quindi partiamo Diciamo Da Big match Un big match Che vede Ha visto Dicevamo Il tau calcio Alto e Pascio Battere per 2-1 Il Forlì Giuseppe Sì come abbiamo detto Prima Questa formazione Praticamente Non ha lasciato Nemmeno gli spiccioli Agli avversari Perché A 15 punti Punteggio pieno In questo campionato Ha già distanziato Il Forlì Il Sasso Marconi E l'immolese Di 5 punti Che si trovano In seconda posizione Fra le altre cose Dobbiamo fare i complimenti Al Sasso Marconi Perché è ritornato Nel campionato Di Serie D Dopo che era sceso In eccellenza L'ha vinto L'anno scorso E oggi si trova In seconda posizione Fra l'altro Andando ad espugnare Il campo Del Ravenna Meritatamente Perché Giocando una bella partita Sì Come abbiamo Fra l'altro Questo è già Un giocatore Che conosco molto bene Perché è stato Anche Savignano Che l'avevo seguito All'epoca Direi che Invece Dobbiamo parlare Della crisi Del Ravenna Perché di questo Si può parlare Crisi Crisi Direi per Dopo la sconfitta Di ieri Corsasso Marconi Il Ravenna Ha parlato Ieri Il direttore Sportivo Ander Mantorlini Scusate Che praticamente Ha parlato Di Una partita Sotto tono Anche Antonioli Sulla stessa Lunghezza Donda Ha detto Che sostanzialmente Chiedeva scusa I tifosi Per la prestazione E quant'altro Io credo Che la partita Di domen Nel prossimo turno Contro l'Immolese Sia decisiva Per le sorti Di Antonioli Sulla panchina Della Ravenna Un'Immolese Che tra l'altro È partita molto bene Sta andando bene L'Immolese Che è partita È partita Molto ma molto bene Ieri appareggiato Sul campo Della Fiorenzuola Dobbiamo anche ricordare Per parlare Per finire Il discorso Del Ravenna Che fra l'altro Il Ravenna È entrato in società Al 50% Un'altra società Diciamo Quindi Ha ambizioni Parlavano addirittura Di Serie A Nel giro di pochi anni Ma credo che Il discorso da fare Sia invece Quello di risalire La china In questo campionato Per cercare Per cercare Di giocarsi La vittoria finale E il salto Di categoria In Serie D Per le altre partite Parliamo invece Del derby salvezza Fra San Maurese E Zenit Prato Terminato con la vittoria Degli ospiti Per 2-1 E la San Maurese Di Mirko Taccola Resta penultima A due punti Una sconfitta Pesante In casa Che non ci voleva La San Maurese Contava molto Su questa partita Soprattutto per i tre punti Che ne sarebbero venuti Usirne tutti uniti Perché altrimenti Se si comincia A disgregare La situazione Sarà difficile Per la San Maurese Venirne fuori Sono convinto Che conoscendo Le qualità di Taccola Possa venire fuori Da questa situazione Poi il pareggio Del lentigione Contro la Pistoiese Fra l'altro La partita Del prossimo turno Fra San Marino Lentigione È stata rinviata Anche in questo caso Dei giocatori San Marino Per la nazionale San Marinese E Dobbiamo segnalare Anche Il cittadella Vismodena San Marino 3-4 Ne abbiamo parlato Anche prima Abbiamo visto Anche prima le immagini Abbiamo visto prima Le immagini Tre punti Molto importante Per la formazione San Marinese Perché Perché sono tre punti Che come si suol dire Fanno morale E classifica Portano La formazione San Marinese Allenata da Cascione A sette punti In classifica C'è stato un altro 0-0 Ovviamente Quello tra progresso E Piacenza Calcio Stiamo vedendo Appunto le immagini E poi Adesso rivediamo Questo corticella United Riccione Finito 3-3 Con Attilio Un United Di Riccione Che Insomma Sta continuando A comprare Giocatori Ma per il momento A 4 punti Con una vittoria Un pareggio E tre sconfitte Dimentichiamo Che ha cambiato Tutta la squadra Anche quest'anno Lunait Quindi Ci vorrà un po' Non è bello Nel calcio Cambiare 20 giocatori Tutti gli anni E cambiare Gli allenatori Come l'anno scorso 4-5 allenatori Adesso per fortuna Quest'anno Dice che rimane Lui Vedremo fino alla fine Perché domenica È una partita Molto importante Col progresso Cassese È molto arrabbiato Perché la squadra Non gira come voleva Ha mandato via Il direttore sportivo Ha mandato via Dei dirigenti Sta cambiando Dei giocatori È tornato adesso Il nuovo acquisto Che ieri Tra l'altro È andato anche in gol Però È tutto da dire Ancora Perché Io lo aspettavo Più In classifica Dopo la brutta Annata Di anno scorso Aspettavo Un altro Unite Riccione Più in altra classifica Invece Stava dimostrando Che ancora Può andare via Da Riccione Dal comunale Io non sarei mai Andato via Se la squadra Era mia Io sarei rimasto A giocare le partite lì Anche per portare Più Riccione Allo stadio Perché tanto Abbiamo visto sabato Che ha giocato Il Riccione C'era una tribuna piena La gente si è divertita E quindi I Riccione Forse hanno comunque Due tifoserie diverse Però questo va Va detto Nel senso che Sì hanno tifoserie diverse Non ha Non ha molti tifosi Non ha Gli Ultras Non ha i giovani Quest'anno Ha disfatto anche Il settore giovanile Che c'ha solo due squadre Sono poche A questo livello Ha solo la Union Che tra l'altro Sta perdendo tutte le gare Anche il sabato Cattolica Speriamo che Venga fuori Presto Ma La vedo molto dura Mi auguro Mi auguro di no Perché io Riccione L'ho sempre seguito La promozione L'avevamo fatto noi Con la Fia Riccione Quella volta Ho seguito A Corticella Proprio A Modena Siamo andati In trasferta Anche per il giornale E quindi Gli auguro Di venire fuori Quanto prima Allora Un po' di Messaggi A proposito di quello Che ci diceva appunto Attilio Un super tifoso Ci scrive Cassese ha rilasciato Un'intervista al Corriere In cui spiegava La sua volontà Di ottenere i tre punti Ma dovrà aspettare Domenica appunto Con il progresso Il progresso Che è ultimo in classifica Tra l'altro E lì si giocherà molto Nel campionato È logico Che i tre punti Bisogna farli sul campo È inutile Fare proclami Quando si gioca Devi fare i gol Devi portare il porto Ieri addirittura Come ha detto La precedentessa Poco fa Hanno pareggiato in dieci Corticella Con una squadra di giovani Quindi vuol dire Che le squadre Non mollano E vanno avanti Andiamo con Qualc'altro messaggio Che spettacolo Ieri nel derby Tra le viste Pietracuta Oltre 500 spettatori Esatto Molto Molto spettacolo Molto Eppure molto corretto Questo bisogna fare Gli alloggi Alle due società Ai tifosi Che non è successo Niente Su cose È bello giocare In un'atmosfera così Vero? Sì È sempre bello Il derby Io sono lì da qualche anno È sempre la partita più bella Da giocare Ancora sui Sì E difatti Anche dicono Pubblico molto corretto Grande tifo corretto Molti sportivi Ultras È vero Poi Una curiosità sul Misano Più che altro Un'affermazione Misano è stato fermato Da un grande Barbanti E il bomber Cremonini Non perdona Infatti ho detto prima Che Barbanti Ha salvato tre gol Quasi fatti È vero È vero Così è Peraltro è un ex Barbanti del Misano È già Noi del Misano Esatto E poi C'è anche questa per noi Vi seguiamo anche da Roma Vitto e Novi Li salutiamo Li salutiamo anche da Roma Ovviamente il streaming è su IcaroPlay E poi ce n'è una per Sapori Una per Thomas Occhio che Sapori Prende le multe a Sasso Marconi Perché prendi le multe a Sasso Marconi? Che cosa Cosa combina a Sasso Marconi? No no È successo che Stavo andando a giocare a Sasso Marconi E ho preso una multa Ah la multa a me C'è La multa in macchina Ah in auto Io pensavo Pensavo alla multa per qualche comportamento In campo Roba così No no Invece per andare Per raggiungere il campo Di Sasso Marconi Esatto per andare lì Hai preso una multa? Sì sì Ho preso una multa Adesso mi prendono un po' in giro per questa cosa No Vedremo quest'anno Scherzi Non te lo rinfacciano assolutamente Non te lo rinfacciano assolutamente Molto bene Allora siamo in dirittura d'arrivo Dobbiamo segnalare che in settimana sono usciti gli accoppiamenti degli ottavi È vero Di Coppa Italia Vale dire queste partite imporiamo il 13 di novembre Di eccellenza Cava Ronco e Zola Predosa Gambettola Massa Lombardo Osteria Grande Coriano E Nova Feltria Mezzolar Il 13 novembre È prossimo Quindi di mercoledì Partita secca E poi ci sono anche i accoppiamenti di sedicesimi invece di promozione Esatto E trovate tutto sul nostro sito News Rimini come sempre Noi dobbiamo salutare i nostri ospiti Grazie a Dattilio Fabri Grazie a tutti Buona serata Grazie a Federico Fabri Grazie e buona serata Grazie a Thomas Sapori Grazie a voi Buona serata E grazie a Giuseppe Delbianco Buona serata Tra poco pagina legata al Rimini Ci eravamo abituati bene Ha fatto il sapore alla vittoria nelle ultime settimane Invece è arrivata questa sconfitta con la spalla Ne parleremo subito dopo la pubblicità Quindi restate con noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti